Bambini basta far casino, adesso interroghiamo, dai, interroghiamo la piccola Gaia, forza dai la lavagna Su cosa mi interroghi maestro? Madre di Dio! Cosa? Ma di che anno sei? 2014 Ma che cazzo ti danno da mangiare? Scusa E che ne so? Sì ma non è normale che crescete così, fortuna che gli altri bambini invece sono normali Quando c'è l'intervallo maestro? Arrivo io la mia mamma Io devo fare la pipì, io la bubù È la madonna Bene oggi interroghiamo Maranzetti ma cosa sta facendo? Ma non la scurdi bro? Io quest'anno la bacio No dai fra fai bro Maranzetti interrogato Sbatti bro E se sbaglio questa interrogazione Io la rovino È chiaro Ma tanto cosa parlo a fare con lei? È un maranza che è fissato con la trap e cazzate varie Non la scamo Dai bro, mettimi alla prova Con piacere Bro Mi dica Che cosa si intende con l'espressione belle époque? L'espressione belle époque coniata in Francia al tempo della prima guerra mondiale Indica il periodo di pace, benessere e progresso degli anni tra il 1890 e il 1914 Giusto A partire dal 1800 la Francia ebbe la sua prima? Banca di Stato Fran All'inizio del XV secolo l'Italia si presentava? Frammentati in una serie di stati regionali di diverse entità Carlo d'Asburgo divenne re di Spagna nel? 1506 Cipro, Rodi e Candia appartenevano a? Domenico Chi fu il nemico più temibile per Filippo II della prima parte del suo regno? Impero ottomani Ho detto bene, Fran, ma com'è possibile? Sono un maranza, mica ho uno scemo Ragazzi, apriamo il libro a pagina 269 Ragazzi Ragazzi Basta, basta, io sono stupo Colleghi, mentre spiegavo c'erano i ragazzini che giocavano al telefono È una vergogna insegnare senza essere ascol... Ma cosa state facendo? Stiamo giocando a un caisse a regno Ma allora mi prendete per il culo? O forse sei solo noioso Sì, vabbè, cos'è sta roba? Ma dove vivi? Onky Star Rail è un famoso gioco RPG galattico È disponibile su diverse piattaforme e quindi ci puoi giocare contemporaneamente su tutti i tuoi dispositivi E nella nuova versione 2.2 verrà conclusa la tanto attesa storia Pena Coni Eh, e quindi? Mi sa che hai proprio bisogno di nuovi stimoli visivi Ti introduco il nuovo personaggio Proprio? L'amico di Batman? Sì, certo Eh, la Madonna, chi è? Una cantante conosciuta in tutto l'universo del gioco Sono un idol super versatile che può potenziare il potere dei suoi alleati durante le battaglie E mettere in scena uno spettacolo musicale durante la sua ultimate con la sua musica di sottofondo speciale Ma che boba, lo voglio giocare anch'io, giochiamo, giochiamo E presto ci sarà l'unione del secolo, ovvero il cyborg cowboy Boutil, membro dei Galaxy Rangers E che fa questo cyborg? Semplice, risponde alla violenza con la virulenza Mio padre, mio nonno, mio zio Nella versione 2.2 torneranno i personaggi più popolari del gioco E ci saranno nuovi eventi speciali e nuove modalità di gioco Mamma mia, che roba incredibile Mi avete convinto? Qui sotto in descrizione ci sarà un codice dove tu e tutti gli utenti che ci stanno guardando Troverete gratuitamente 50 stella arcade, ovvero le monete del gioco Esplodo male Cosa aspetti? Scaricalo anche tu e accedi per 7 giorni per ricevere gratuitamente i 10 summons Che puoi utilizzare per ottenere Robin e WPIL Sì, però prima posso uscire con Robin? Riportami nel gioco, subito! Chiaro? Vabbè, non ho mica detto niente di male, perché fate così? Vabbè, io ci rinuncio Mi licenzi Basta, basta, basta! Rangetti, si è preparato per l'interrogazione? Sì, bro, mi son fatto la doccia Come prego? Fra, mi son fatto fresco Outfit con tutta te Borsello med di Tunisia Esco il bag di Luigi Che drip, bro, spacchiamo Ma spacchiamo sua madre Cosa sta dicendo? Non siamo mica in discoteca Intendevo dire se ha studiato No, fra, non c'è tempo Ieri ero con la mia bed Eh, pure la bed, dicia Ma chi è? Ma chi è che esce con un bimbo minchia così? Lei, bro Eh, osti, che fregno imperiale! E una così cosa ci fa con lei, Maranzetti? Le cambia il pannolino? No, no Lui è un malessere senza gangsta Chi è lui? Con questa ci metto su famiglia, bro Ma cosa vuole mettere su lei Che non è neanche in grado di pisciare in piedi Le metto due e la mando in presidenza Bro, fra, 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 fra Cos'è che vuole? Cos'è che vuole? Ci becchiamo fuori, bro Sì, dai, così la metto sul passeggenino e la porto a casa, eh Fuori dalla mia classe! Maranda di mierda! Maranzetti, mi parli della Divina Commedia Bro, il tipo è devastante, è un poeta E beh, parla del sommo poeta Dante Alighieri Chi? Dante Alighieri? E chi lo conosce, fra, la Divina Commedia di Tedo Album dell'anno, bro O cosferite senza senso, bro Ma lei è senza senso, lei è senza senso È una capra ignorante! Dante Alighieri è un patrimonio mondiale della cultura Sì, fra, ma ha copiato Tedo Mi sembra un po' la massa da infame Eh, lo so, bro, la verità fa male Alessia, qual è la capitale del Mozambico? Maputo Giusto, bravissima E quante sono le isole Olie? Sette Bravissima, bravissima Ultima domanda adesso, eh La più difficile, vediamo In che anno è stata pubblicata la prima edizione dei Promessi Sposi? 1827 Ma sei un fenomeno! Bambini, applausi per Alessia! Sì! E tu chi sei? Sono un ologramma progettato dall'intelligenza artificiale e guidato da Alessia per elaborare risposte corrette a ogni sua domanda tecnica Sì maestro, non avevo sbatti di studiare, quindi ho generato un mio avatar che ho fatto comparire utilizzando il proiettore dietro di lei e ho guidato le risposte direttamente dal banco, campionando anche la mia voce originale. Sei finita! Alessia, adesso te la faccio pagare gara! Peccato che nemmeno io sia qui, ma sono stata generata dall'intelligenza artificiale. La vera me in questo momento si trova alle Bahamas a bere un mojito in spiaggia. Ah, astuta! Lo so! Peccato che anch'io sia stato generato dall'intelligenza artificiale e ora mi trovi proprio di fianco a te! Ciao Alessia! Interrogata! Ciao Alessia! Ciao Alessia!